Cucchi de ricci botadalmi Molostiami Gritami Abusadimi Causandomi angustia e dolor profundo Soffrimento e cicatriz Fedemi ser La cami los Pa' mi busca mi caminta di cambio e libertad Ponsanto comi merece cariño Amor, respeto E trato gusto con paciencia Mica esperta Uniforza Pa' cane ruta di paz E unión Pa' por fin alcanza Pa' un mes y otro Sanación completo Música Quibrando E grito Silencioso Cucchi de reti una produzione di Fondazione Voz di Juventud. Buongiorno a un'altra edizione di Cucchi di Reci. Esa è di due parti di misa e abuso sexual, e in questa edizione è la parola di una vittima di abuso sexual come te per un pastor cattolico. Un personaggio vibrante e conosciuto nella comunità, ma che accarga un sofrimento amargo per gran parte della sua vita. Aldrico Felida. La mia vita è stata stipulata per una vita fantastica. Come molto, penso che la religione è turca, e quindi nell'altro, come ho rotto, aveva la religione, come ho fatto attuale, di una religione, un'altra, ma ho accettato. In questo momento ho accettato, come ho accettato, come ho una giornata di più di canale. Quando ero ancora una giornata, quando ero all'interno, con la mia giornata. e trece amor e te pensi che mi vai servire a misa 46 anni non mi miso escoge mi tappato s'avvita in panchimiche mi chiede un pastor la misa lo che dava da attrae mi tappato è è che con gente non vieni junto per celebra un cos amor amor per cristo amor per altro amor per primo e siete cose che attrae mi masi di misa lo che non s'avvita così come servito di misa tappato aiuto al pastor preparare la ceremonia tre imparare processione che tappato a te e a mia bebel studi maniera hollandese da misa me sora mi chiede così a conto a predicar mi chiede a leggi la prima carta e di due carta mi tappato a buona in l'esamente mi tappato a un alunno oppi liè mi tinn dottruman di mazruman però e dottruman arriva mi quando mi tappato a me ora mi tappato a scola mi tappato a scena non hai sverag pa mi tappato un ane a padilante che mi acaba scola trempando a me ma come scola cu quattro anni e con di suonare a macabla la carta scola ma unico cosa che il pastor portare lì quando mi tappato a rupi igra passi in turcos mi chiede a me che predica mi chiede a me che questa maniera è Era il mio Dio nella terra, non c'era il mio coraggio che era un buon servidor di Cristo, un pastor. Il mio sogno è quello che verà completo di abuso sexual da parte del pastor Fabias. Abuso contro molti e joven è un problema di salute pubblica. Il 90% dei abusatori è gente buon conoscipa e vittima. Un di cada treze persone muore è vera vittima di abuso di maltrato. Un di cada sei persone è vera vittima di abuso. Un'altra parte del mondo è un'altra parte del mondo. Il suo figlio è stato un'altra parte del mondo. e mi stavamo sempre messo in California per 6 anni, fino a 12 anni. Quindi, quando stavamo a insegnare la processione, per non insegnare la processione, mi stavamo in casa di pastor, che da Drumi, ando tren, ando su mell'annos può andare a casa back. Però il pastor non ha tren con noi, però ha fatto altre cose. Aldrico e Tempo E taba di 12 anni. E sono un mas grande di un gruppo di 6, molto hombres, di entre 7 e 9 anni. Non mi stara che da una casa di pastor, pa' tren, pa' e procession, pa' Pasco di Resurreccio. Non mi stara che da Drumi, ma non mi stara che da Drumi. E un giorno, quando non mi stara che da Drumi, il pastor ha buttato un servidor di misa, non mi stara che da una camera, una link, a la schiena, una roba. a la casa di Dere, la schiena, la scuola a me, pa' in Drumi di in su camera. A me pensavo, è fantastico, è un privilegio, che mi non mi spiega, è che non mi spiega, ma schiena, ma mi ambicione, ma a fare qualcosa, e magari se si vedi un tren, magari un altro tren, magari un ruolo, a parto mi una porta mi ponga cristo dame te in a me non sapo anche la scuola con un treno fa una cristo però il risultato con una tassina anto ora che la vai cominciare in su camera no prometo che la vai cominciare in su camera e la parada in fan anto la buttami su tras e la cuve mi mano la abri su cassone anto la buttami mano sul penis mi tavata totalmente di shock mi no no tavata sa che cosa sta succedendo nel momento e vino a spera e se la soppresame in un momento mi ricordo con un dia molto amana mi ricordo su cara e la cannabini e la miri cos e la spanta la vai back però il pastor si non ha spanta mi non sa di comporta e la haschile qui è molto amare per me mi non aveva idea e la quitta mi man back si chiama e la vai dentro camber ora pastora vai cominciare in su camera con la buttami dormi e boba in su camera dispiace di un rato e l'abbiamo sentita e l'abbiamo dormi e bo di l'antemi anto la cuve mi mano rovesse mi mandretti butta un biamma su penes non mostrami cominciamo visione sin palabra e mostrami cominciamo visione e mi stai un mare un black out e l'abbiamo mi ricordo con comeciano anche se le però il l'abbiamo conciato con il bati nella porta e da un momento quando non ho batto nella porta sono mio romano romba nel momento è conto mio romano grande è conto a mio mamma parte nella casa che non si confia il pastore se i due rumori, non si confia il pastore perché il pastore è passato a mano per la sua pia quindi mi mamma manda a mio tio a mi buscami a noi quindi mi tia bata in la porta e si salva salva me fuori di situazione il pastore non passa saluta mio tio, è allegro a me mi sa nada a me miro mi mamma salva a me vai casa e ora non si vai casa la casa, il maio non ha puntato a nada e il Drico del shock non ha contato a nada secondo il Drico, il maio non lo ha pensato quando ha buscato il tempo fuori di casa di pastor senza che lastimamente è successo a tu malo che acaba mi ha pensato a me è un momento che cosa stai studiando qui? è stato il pastor con una maniera hollandese che mi ha pensato a tegare il mio rappresentante di Dio nella terra è stato il mio cammino è stato il mio cammino per la mia casa il mio pastor via DG mi puoi lograre lo che mi chiede la mia confianza è stata molto grande di DG e il problema è quella abusare di mia confianza di traduzire in un atto sexual è l'unico che mi puoi confiar la mia storia di momento è stato il pastor il pastor è stato il mio guia spiritual è stato un bloc è stato il mio cammino è messo il pastor è stato il pastor è stato un po' a tegare un consiglio è stato un agressor è stato un figlio di DG la mia storia è stato un po' pensato di DG e di relativo di DG secondo me è stato più grande più adulto ora è stato realizzato perché non è giusto però normalmente non sai che cosa è male che cosa è buono cosa è molto cosa pensa il pastor è buono non si pensa se è buono se è buono se è buono se è il diabo ma il pastor è buono che viene da lì se porta è buono all'inizio anche se si speri dovuto... un'ottomofno, un'ottomofno di un'ottomofno, o di questo, fa quella cosa che apparente, non c'è una barra... è meno diverso, che cantano in casa, studi anche. Sono tornato 15 anni, ma ora passiamo all'inizio, ma ho una forza per realizzare qualcosa di ogni club. Ora mi sono andato da parrocchia, quando mi sono andato a casa, mi non ho contato a casa, niente di quello che è passato, mi avevo miedo, mi avevo confondito. E' una cosa grande che mi aveva una vita di un mucchio, come non si aveva un'handolo. E' un'altra cosa, e' un'altra cosa, e' un'altra cosa, mi aveva un'altra cosa, non ho probabilmente di essere se fosse un'altra cosa che ho posto di un'altra cosa, se si parlasse delle belle ou di una buona storia. E mi pensavo che non ho conflitto nella Misa e la mia autoconfianza del pastor, ma non ho conflitto in quanto si mi contano perché non mi quindi non ho vissuto. E' un'altra cosa, comunque non volto. E' un'altra cosa che mi avevo un'altra cosa, prendo un'altra cosa che sia, anche se mi avevo un'altra cosa, ma la prima cosa che ti avevo достato, ilo'altra cosa che avevo un'altra cosa. per quanto riguarda 30 anni o più, per quanto riguarda il mio conto è più grande. E' da un anno che ho fatto, che ho fatto da un'edato che ho fatto da due anni, e non ha formato la mia sexualità, non ha formato il mio carattere. Poi, nel momento che ho fatto il mio carattere e la mia sexualità, mi ha fatto tutto il mio carattere, e dopo il mio successo, ho fatto che ho fatto una esperienza con molti amici per me, e per me ho fatto una esperienza con il pastore, ma penso che ho fatto da un'edato come figlio. Però, secondo la mia vita è stata di seguire, mi ha fatto che non avevo interesse per me, nella mia vita è stata di più di più. In questo modo ho fatta di essere realizzato, che adesso ho fatto da una relazione con molti amici, e ràpто in modo che ho fatto mi affrontare con la mia sexualità, mi duda di insexualità, mi frustrazione di qualcosa che non è corretto. Aldrico Suma Yorna ha deciso di non servire in misa, ma come buon cattolico, ha seguito. Ora mi sono in misa senza, con il mio romano, con la mia mamma. ... ... ... qui abbiamo un po' di più, solo nella mia famiglia, abbiamo preso il cammino di dios e con un cammino di dios, e un cammino di diabolo. Quasi facesse di tutto il mio, e non sono così, non sono più vero, non sono più vero, non ho vinto di un barrio, che ho fatto della ricerca di Andoretta, per inserire il mio. Quindi la mia famiglia è un'impatto di lui, ho abuso a me, ho fatto anche il mio padre da me di un altar, qui non ha fatto qualcosa di male, che mi mette dalla mia ame, mi ha detto che avevo un po' di scuola. Quindi, ho cominciato a dubbi, mi ha fatto una cosa, ho fatto una cosa, ho fatto un po' di più. Perché la mia ricerca, mi ha fatto una cosa, mi ha fatto un po' di più, mi ha fatto un po' di più. Il psicologo Irving Pikes ti explica il possibile effetto di una vittima di clero. Il psicologo, il psicologo, il psicologo dipendente di alcun fattore. Un fattore più importante è chi è la persona che è malato. Conoscere l'impatto e le conseguenze sono più seri in un momento, per esempio, quando è abusatore di un membro di famiglia o di un conoscente o di una persona di una persona dipendente di una persona sempre a idolizzare e la considerare come un idolo e l'impatto è molto più forte che ci sono completamente strani. La possibilità è più grave se una persona con l'accordo violato di un pastor è più grande che è più sicuro come molti, ci sono persone che hanno un con un un piano che ha rappresentato di Dio, con il Papa e con il San Bonzo, e di ripiente il mondo è più completo e qualcosa non è più difficile. Quindi è un momento di confondire un tempo largo e per perdere questa con la religione con la religione di un impatto molto forte. Abuso Abuso contra molti e joven è un problema di salute pubblico. Il 90% di abusatori sono persone buono conosciate e vittime. Un di cada treze persone sono vittime di abuso di maltrato. Un di cada sei gente di Hombra sono vittime di abuso. per ottenere un testigo che ammira parte di quello che è passato e di oggi in questione. Algum'ai è passato, al diritto ha venuto il bel corso e appurata chi ha parlato di un altro con la chieda del caso di pastor e di oggi. che è è unico che mi ha guardato con il mio padre che mi ha guardato su penne. È unico che mi ha guardato che mi ha guardato che mi ha guardato che mi ha guardato e non ho capito. Non ho capito che mi ha guardato che mi ha guardato con il pastor di un'altra di un'altra vitale. Abbiamo attaccato con il mio padre di un'altra notizia però non ho capito a seconda 不知道 di un'altra di informazione del periodo qui, di misa. Pastor Carlos Donado fuori 2004 da la Cabeza di Parroquia di Privenghal. Come representante di Monsignor Seco, è avisa che bucchi di misa non si ha menzionato il nome di mucha che si arriva nella misa, ma sobrano te, va un tempo cortico. E bucchi ti ha menzionato, bautismo, ricevimento e matrimonio di parroquia. Per lo demás, è il siguiente commentario. L'abuso sexual, specialmente di una certa edad di vita di una gente, ha prodotto una conseguenza irreparabile di una vita di una gente. E più ancora, in questo caso, probabilmente in un altro tempo o un tempo atrás, non ho avuto, quando ho avuto, ho avuto, ho avuto, ho avuto, non ho avuto un'assessorio, o un'assessorio, un'yudanza psicologico, che mi piace la verità, che produce daño non irreparabile. Non so' papi di trauma non, che marca la vita di un gente pa' sempre. Si, lógicamente, un sacerdote o religioso, che sta a lavorare con un joven, e, probabilmente, ha più facilità di fare la vita di un'assessorio, di una comunicazione più facile, e, specialmente, con molti e con joven, è parte di un'autorità, mi piace, è dolore, con, ultimamente, specialmente, di un medio di comunicazione mondiale, a sali, a fu, mi piace, con l'autorità e con la confianza, io non ho avuto, non ho avuto un'assessorio, non ho avuto un'assessorio, con la confianza e non ho avuto un'assessorio, magari, in un'assessorio, non ho avuto un'assessorio, che mi piace la Cattolica ha perduto la credibilità, però, d'ordine, la Cattolica è un'assessorio, si, ha avuto un'assessorio, per la gente non può fare, non è un'assessorio, che non è un'assessorio, la Cattolica è un'assessorio, ma un'amore di un'organizzazione, non è? e nel Vaticano è anche celibati, non ho avuto un'assessorio, se non c'è è un'assessorio, non c'è gente, non c'è io. Ma quando avvicino con il pastore, non c'è un'assessorio, non ho avuto un'assessorio, non ho avuto un'assessorio. La natura è solede, non c'è un'assessore, anche per il familiare la sua ajuda. Non ho avuto un'assessorio di una Cattolica, con il pastore, un pastore amato, Rømer, lastimamente a falleci, però la contame che stava a la altura di tur, tur e problema. Per il suo manco stava a mara, il nostro Monsignor Ellis non stava a sostenere. Il nostro Monsignor Ellis non stava a sostenere, il nostro Monsignor Ellis stava a sostenere. Il nostro bispo Ellis dispensa. Quando sali fuori di Ulana, veniva in Corso, cinque anni passi, mi va a dire che il nostro pastor Rømer mi stava a cansare. Quando mi stava a sostenere, mi non ha una risposta a una pregunta di quali ero che è successo. E come la mia vita lo sta, sin questo successo. Ora mi viene a Corso con la intenzione di avere un riconoscimento di un carta che mi stava a sostenere, la verità dispensa, per la mia mente pensa, e non ti rende più a una cosa che succede. E ti mi molestia. Io volevo a Pastor Rømer, Amato Rømer, e l'ho chiamato, che mi ha spaventato, che mi ha spaventato, e l'ho chiamato, e l'ho chiamato, e l'ho chiamato a Monsignor Seco. E l'ho chiamato a Monsignor Seco, e che mi sento un po' un po' un po' un po' di dispensa. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti